Senti, lasciami parlare a me, che la proposta economica ce la devo fare io eh Questo si ha condannato 4-5 mila euro al massimo Allora, per favore, ricco, non cominciamo eh, fuccia calla Io non ho mai fatto una cosa buona nella vita A me stavolta, fammi fare, divido a metà coi reni Ma divido a metà, basta che l'agenzia, a parte Buongiorno Buongiorno E tu chi sei? Cabo? Che hai detto? E tu chi sei Cabo? Tu chi sei? Tu che vuoi? Maestra nera No, tira la zeppola Ma qual la sei? Ma come fai il verso? Eh, ti investo come fulguna No, non ha detto invece, ha detto fai il verso Cioè, la traduzione, non fai la traduzione simultanea Oh, come prendi in giro Mmh, ti fanno giro No, ha detto che lo prendi in giro Oh, quanto mai? Prendi in giro a me Prendi in giro a me Prendi in giro a me Oh se, come faccio mamma a te Come faccio mamma a te Ah, entri signor Crevisi Entri Arturo, che faccio? Aspetto Arturo Ma lo sai che tu tieni una faccia cinematografica? Ah!